Svaniscono in Piemonte le speranze della Fabiani di conquistare un posto nel fara di Coppa Italia. Il match di recupero con l'Albag Moncalieri si rivela fatale, 71-63 la sconfitta per i ragazzi di Coaccio e Campanella ed è la quinta sconfitta consecutiva, lontano dal Palaterme. Il Canovaccio è ormai lo stesso, in un primo tempo molto debole con una poca continuità di gioco e la squadra di casa che prende 17 punti di vantaggio. La rimonta, la solita rimonta arriva nella ripresa, stavolta il trascinatore Valero Circosta con una serie di triple di ottima fattura. Montegatini arriva fino a meno 3, 61-58 con il pallone in mano ma poi perde il pallone e dall'altra parte è Conti, il migliore in campo, a disseminare le ultime speranze dello Sublu. Ancora una volta è venuta fuori la differenza fra le squadre che hanno lunghi puri e Montegatini. Montegatini, 44 rimbalzi a 26 il computo per Moncalieri ma Conti, soprattutto, 19 punti, top scorer, il migliore in campo, giocatore che ha fatto molto male alla difesa di Campanella. Montegatini è salita con la morte nel cuore per la scomparsa avvenuta nella notte di Stefano Ranuzzi per il quale è stato osservato anche un minuto di raccoglimento prima della partita. Si chiude quindi con una sconfitta il 2016 di Montegatini, un'annata comunque contraddistinta da tanti cambiamenti e la speranza è di cominciare il nuovo anno con una vittoria ma sarà una partita molto particolare. Mercoledì 4 gennaio alle 21 a Firenze proprio contro la Fiorentina Basket dove sulla panchina siede Andrea Nicolai.